85 milioni di euro per ristrutturare e rendere più efficienti e accessibili entro la fine del 2018 34 stazioni ferroviarie in Toscana. Il piano di interventi è stato presentato nella sede della regione dall'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e dal direttore territoriale di RFI Efisio Murgia. I principali interventi consistono nell'innalzamento dei marciapiedi a 55 cm per agevolare la salita sui convogli, l'installazione di ascensori, la ristrutturazione di sale d'attesa, sottopassi e pensiline oltre al potenziamento dei sistemi di informazione dei viaggiatori. Un impegno importante che abbiamo ottenuto con la firma dell'accordo quadro con RFI e che sta andando avanti direi con un dinamismo e con una tempistica che rispetta quelli che erano i tempi dettati dalla programmazione. Tutto ciò che avevamo dichiarato il 28 giugno scorso è stato realizzato e quindi ancora più importante di tutto l'impegno messo in campo è vedere la realizzazione di quanto era stato pianificato. I primi cantieri riguardano le stazioni di Arezzo, Carrara-Avenza, Chiusi-Chianciano-Terme, Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella, Grosseto, Lucca, Montecatini-Terme, Massacentro, Montale-Agliana, Montevarchi, Piombino, Pistoia, Pontassieve, Pontedera, Rignano, San Giovanni-Valdarno, San Vincenzo, Serravalle-Pistoiese, Siena e Via Reggio. Nel 2018 i lavori coinvolgeranno le stazioni di Campiglia Marittima, Empoli, Figline-Valdarno, Follonica, Forte dei Marmi, Livorno, Orbetello, Pietrasanta, Prato Centrale, Rosignano, Sesto Fiorentino, Signa e Torre del Lago.